Roma cerimonia al centro remiero dell'Università del Foro Italico di Roma. Sono stati donati due defibrillatori da Rotary Club Parioli di Roma all'Università dello Sport che con migliaia di suoi studenti atleti è impegnata in molte discipline sportive. Il Rotary Parioli sta portando avanti da tempo un importante progetto lotta alla morte cardiaca improvvisa, con la messa a disposizione della collettività di defibrillatori in posizioni accessibili H24, e che possano essere utilizzati da personale medico e soccorritori specializzati. Il Rettore dell'Ateneo, Professor Fabio Pigozzi, ha portato il suo saluto, ricordando, anche come medico specializzato in medicina dello sport e cardiologia, l'importanza dei defibrillatori che, tra l'altro, da quest'anno. Sono obbligatori anche su tutti i campi di calcio dei dilettanti. Sono intervenuti inoltre l'Avvocato Mario Spatafora, presidente del Rotary Club Parioli, il Professor Piero Sandulli, docente universitario e da sempre nella giustizia dello sport, e l'ingegner Paolo Terreno che per conto del Rotary, sta portando avanti il progetto su questi indispensabili apparecchi che salvano le vite. Ora molti studenti dell'Università del Foro Italico faranno il corso che dura 5 ore.